La parte fiscale, vabbè, avrei molto da dire e lei lo immagino perché ci conosciamo da un po' di tempo, però due osservazioni, una sulla questione dei non condoni, quindi assumo la sua interpretazione della lingua italiana, a parte lo stralcio, lo stralcio delle cartelle ammetterà che quello è un condono, va bene, grazie. Però io mi chiedo due cose. Uno, le controversie tributarie. Avevamo appena fatto la riforma, avevamo concordato in una bellissima maggioranza precedente, non c'era Fratelli d'Italia, però una caduta che era logica perché smaltiva un arretrato in Cassazione, ma non interveniva sul primo o secondo grado di giudizio, dove non ci sono cause pendenti arretrate, non c'è un arretrato. Quindi perché dobbiamo, siamo sicuri che lì c'è il bisogno? Io penso che questo sia una donazione, non un bisogno. L'altra questione riguarda il fatto che lei e altri rappresentanti autorevoli della maggioranza continuate a dire che tutte queste misure sono dieci e stamattina ne venivano richieste altre, per dire siete state anche poco abbondanti, secondo gli interlocutori di stamattina, sono fatte perché c'è un bisogno. Ora io sono la prima, o la seconda se qualcun altro lo sta al primo, che dice che in caso di bisogno bisogna andare incontro al debitore. Ma perché non c'è nessuna clausola che sottoponga condizioni, la concessione dello sgravio a una verifica della condizione del soggetto? Verifica che l'agenzia delle entrate è assolutamente in grado di fare, che fa ad esempio per le rateizzazioni in tempi normali quando il debito eccede una cifra che abbiamo portato alla stravagante livello di 120 mila euro. Allora io credo che se lei ci avesse detto o se lei mi dice adesso che è disposto ad accettare un emendamento in questa direzione, cioè che condizioni questa agevolazione ha una verifica di una condizione di bisogno, che non vuol dire un isene, non sto dicendo questo, proprio capacità di pagamento, mi riferisco a quello, allora io vengo con lei immediatamente, se no mi sembra che dovete smetterla di dire che lo fate per le situazioni di bisogno, perché non è vero. Certamente in materia tributaria e fiscale si tornerà sull'argomento, quelle che sono state, diciamo così, predisposte, sono misure, chiamiamole così, una tantum per dare l'idea, ma sicuramente l'ambizione è di inserire nel più grande quadro della riforma fiscale, come pure della riforma previdenziale, che sarà oggetto di discussione l'anno prossimo dei meccanismi di razionalità e di sistema rispetto al fatto che, come è stato osservato, ma su questo io ovviamente credo che la discussione sia aperta rispetto al fatto che debba essere adeguatamente valutata la situazione di disaccio del contribuente rispetto a quella che è la pretesa dell'accertamento tributario e un regime magari di maggior favore rispetto a quelli che sono in condizioni di oggettivo disagio.